A fronte di fatturato e utili da record, l'amministratore delegato di Samsung, Kwon Oh-yoon, ha rassegnato le dimissioni, denunciando una crisi senza precedenti in seno alla società. La decisione scaturisce dallo scandalo per corruzione che ha portato all'arresto delle rede della dinastia che controlla la casa coreana, Lee Ye-yong. Lo scorso anno un altro scandalo aveva riguardato le batterie difettose del Galaxy Note 7, poi sostituiti. Nel terzo trimestre dell'anno le vendite di Samsung sono salite quasi del 30%. Grazie.